E ora finalmente andiamo a fare le nostre tavole di stampa, quindi accediamo a quell'area che vi avevo mostrato prima, l'editor delle tavole, dopodiché qui si cambia completamente funzioni, andiamo per esempio ad impostare la pagina, configurarla, per esempio qui ce ne sono vari formati, altrimenti si possono inserire dei formati personalizzati, diciamo che la 1 ci può andare bene, senza margini perché tanto dopo faremo una stampa in pdf, ok, questa è la nostra pagina, possiamo anche misurarla, 841 e una 1, perfetto, a questo punto si può andare ad inserire tutti i vari oggetti che noi vogliamo, ovviamente questa qui è la prima tavola che uno propone, se noi clicchiamo due volte col pulsante sinistro del mouse, o altrimenti clicchiamo qui, cliccando due volte su una parte vuota, o altrimenti cliccando questo pulsante, si accede all'elenco di tutte le tavole, ce ne sono 3000 per ogni progetto, vediamo per esempio la prima che chiamiamo progetto villetta, ok, è questo qui, abbiamo già settato le dimensioni, andiamo ad inserire per esempio un cartiglio, questi si possono creare con il CAD 2D, tutti gli strumenti che abbiamo qui, altrimenti possiamo inserire qualcosa che abbiamo già creato noi, carichiamo per esempio dal catalogo, qui abbiamo già un cartiglio, eccolo qua, possiamo andare a completarlo, possiamo andare anche a completare i margini del nostro foglio, per esempio continuando questi, poi possiamo fare una linea parallela al bordo esterno, questo è a 1 cm, quindi 10 mm, una parallela, a 10 mm a sinistra, ecco fatto, andiamo a togliere tutto ciò che non ci va, per esempio questi spezzoni, ecco, ed ecco la nostra tavola, anche qui, per esempio, ecco fatto, se non vogliamo le misure in millimetri, perché magari ci suona male, possiamo anche utilizzare i centimetri, clicchiamo qui e mettiamo centimetri, a questo punto tutte le misure sono date in centimetri, qui non sarà più 10 ma sarà 1, è così per tutte le misure, andiamo ora ad inserire i nostri quadri, clicchiamo qui, elemento tavola, clicchiamo, inseriamo per esempio i prospetti, scala 1 a 50, così si vedono bene, ne possiamo mettere uno qui, un altro, sempre in scala 1 a 50, qui si può mettere la scala, l'angolo di rotazione, diverse altre cose, dopo li sistemiamo meglio, e la sezione, sempre in scala 1 a 50, qua, a questo punto, ecco, anche un po' più in su, a questo punto andiamo ad inserire anche le piante. Per le piante potremmo avere bisogno di più quadri, per esempio, se abbiamo diversi oggetti che vogliamo tutti rappresentare nella pianta, ma che sono contenuti in più quadri diversi, dobbiamo utilizzare un pacchetto di quadri sovrapposto. Andiamo allora ad aprire il nostro elemento tavola, in questo caso possiamo selezionare anche più quadri contenendo premuto il tasto CTRL, per esempio il piano terra e i vani del piano terra. Ok, in scala 1 a 50, e lo mettiamo qui. Una volta inserito, possiamo fare la stessa cosa ovviamente per il primo piano. Primo piano e vani del primo piano. In scala 1 a 50, ecco qua. Ora, questi quadri sono sovrapposti, sono il piano terra e il vani del piano terra, analogamente per il primo piano. Se io vado a spostare uno di questi due, ovviamente perdo la sovrapposizione, ed è facile sbagliarsi, cioè muoverne uno solo dei due. Per questo esiste la funzione Pass Partout, che praticamente genera una cornice che fissa i quadri selezionati all'interno e da quel momento in poi si possono spostare insieme. Inoltre è molto più facile poi gestirli. Per farlo, prima creiamo delle linee di costruzione, per non sbagliarci, per esempio, possiamo mettere questa linea. Facciamo per esempio in questa cornice un Pass Partout, e poi creiamo questa linea. Facciamo così per tagliare fuori questa scritta che non ci interessa. Una volta create queste linee, possiamo andare a inserire il nostro Pass Partout, ovviamente gli elementi già posizionati. E andiamo ad evidenziare entrambi. Per quanto riguarda, si possono anche creare dei Pass Partout come faremo qui, con una spezzata. Per quanto riguarda i rettangoli, basta dare solo la diagonale e fare Esc. Ecco il primo Pass Partout. Facciamo lo stesso per il secondo Pass Partout. In questo caso andiamo a dare tutti i punti. Sono scomparsi gli oggetti sotto, è una cosa della scheda video. Ovviamente, se avete una scheda video più potente o migliore, non farà questo scherzo. Andiamo adesso a cancellare tutte le linee che non ci interessano. Visualizziamo di nuovo tutto. Per visualizzare, basta andare in un'altra tavola e ricaricare la tavola stessa. Eccoli qua. Poi queste cornici, in realtà, possono essere cancellate in fase di stampa. Cioè, si può dire alla stampante di non stamparle. E abbiamo fatto la nostra tavola. Le cornici Pass Partout sono anche molto utili perché, cliccandoci dentro, si accede alla gestione di tutti i quadri che sono posizionati all'interno. Per esempio, i vani del piano terra e il piano terra. E qui si può, per esempio, dare una quota fissa dei layer. Cioè, indicare quali layer sono visibili o invisibili. Un fattore di scala, per esempio, oppure un fattore di testo. E così via. Allora, a questo punto possiamo iniziare la stampa. Normalmente è sempre bene fare una stampa in PDF in modo tale da vedere poi il risultato finale prima di lanciare poi la stampa su carta. Comunque, fate voi. Viene normalmente stampato tutto in bianco e nero, a seconda delle esigenze. Per stampare tutto in bianco e nero, basta andare in Visualizza Video e cliccare su tutti gli elementi con il colore 1, che sarebbe il nero. Altrimenti si può dare quest'opzione anche dal proprio plotter. Si clicca qui e si va in stampa tavole. Dopodiché si apre questa finestra. Noi ovviamente qui ci sono tutte le tavole da stampare. Abbiamo solo una, perché è il nostro progetto della villetta. Si possono dare queste opzioni, tra cui la cornice del Passpartout, che noi non vogliamo vedere. Poi si va in quest'altra tendina. Qui come periferico utilizziamo il PDF Creator, ma potete usare una qualsiasi stampante. E gli diamo la 1 come pagina. È già impostata. Si possono anche andare a dare altre opzioni, ma normalmente si utilizzano queste semplici. Dopodiché premiamo stampa e stampiamo la nostra tavola. Ricordiamoci sempre di ripristinare i colori. Così se dobbiamo fare delle modifiche non è un casino. E abbiamo ottenuto così le nostre tavole di stampa. In breve tempo, in pochi minuti, siamo riusciti a fare un progetto. Vabbè, non è il massimo, perché anche questa tavola di stampa, se provi a presentarla in comune, è facile che vi sbuti in un occhio. Però, insomma, in poco tempo siamo riusciti a tenere qualcosa che, lavorando con i vecchi sistemi CAD, era molto più lungo e brigoso da fare.